Musica Ah allora anche dietro? No ma sinistra Sinistra E domani le porte Forza ragazzi Il grande campionato italiano sarà grande sfida sulla collina di Bari Musica 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 E' un saluto per fare la bicchieri! Alessio! Che c'è stato il sinto della gara a finale. Che c'è stato il sinto ulcio. Alessio! C'è ancora stato venuto a fare. No, no! Alessio, non so! Resta, Resta! Resta, Resta, Resta! Resta, Resta! Occupiamoci del primo e lui è Fattini, è campione d'Italia! Primo Christian Fattini, KTM Alcemir, da questa parte del rettilineo applaude anche Nicolás Travella che ottiene la seconda posizione con un ritardo di 15 secondi e adesso attendiamo chi occupa con onore la terza piazza conquista il podio nella corsa di casa con onore il secondo al Giro d'Italia terzo al campionato italiano Stefano Viezzi della DP 66 Giant SPP primo e campione d'Italia Cristian Fantini gruppo sportivo KTM Alchemist le autorità procedono con la premiazione primo Fantini, secondo Travella, terzo Viezzi Cristian Fantini campione italiano allievi te l'aspettavi, la stavi preparando questa gara, ne hai vinte 10 in questa stagione quindi questo è stato il clou Sì, abbiamo cercato di preparare questo appuntamento questa stagione siamo riusciti ad arrivare con una condizione buona anche altre gare sono andate bene però l'appuntamento più importante era questo Il tracciato era dato alle tue caratteristiche con la scalata di questo colle? Il percorso abbastanza perché c'erano dei pezzi anche da fare a piedi e mi difendo bene niente, ero un po' più bagnato che ieri ho cercato di gestirmi un po' i primi giri e dopo ho provato ad allungare e sono riuscito ad andare via Chi temevi di più oggi? Beh, sicuramente quelli che temevo di più erano Viezzi e Travella però, come si sa ognuna gara a sé e niente Quindi è andato tutto perfettamente liscio oggi? Sì, diciamo di sì Grazie